Musica Chiamo Parcaiat Milano Parcaiat Milano, buonasera, sono Giulia, come posso aiutarla? Sono Clevo di Pasini, il figlio del signor Pasini che dorme nella suite e vorrei fare una sorpresa a mio papà in modo che possa festeggiare Natale come si deve, mi puoi aiutare? Certo Claudio, possiamo pensare di far arrivare un bell'albero di Natale in camera? C'è la voglia di fare che non sia sorpresa, siamo aggiori. Musica 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 Una altra. Quattro, quattro. Una altra, una altra. Una altra. Quattro, quattro.